L'ACRI, l'Associazione Nazionale di Fondazioni di Casse di Risparmio, ha la finalità specifica di conservare il patrimonio delle varie località. La Fondazione Casse di Risparmio di Biella da anni segue le linee guide espresse dall'ACRI, acquisendo opere di artisti locali. In una mostra presso lo Spazio Cultura della Fondazione di Biella sono state esposte le migliori espressioni artistiche di autori locali. Nomi riconosciuti dalla critica internazionale come Lorenzo Deleani, del quale vediamo una delle sue opere più conosciute, La Processione di Fontanamore del 1882, ad altri autori che appartengono all'anima più profonda del territorio, considerato da sempre, forse ingiustamente, privo di vocazione artistica. Una vocazione tuttavia che non è mancata ai grandi imprenditori biellesi che hanno arricchito le loro collezioni, considerandole all'inizio fiore all'occhiello, beni rifugio, prima ancora che arricchimento dell'anima, ed ora donate in parte al Museo del Territorio biellese. Curatore della mostra è il critico Bruno Pozzato, che ha scovato dipinti per lo più sconosciuti al grande pubblico. La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, oltre che dichiararsi disponibile a ricevere donazioni, si impegna a tutelarne la loro integrità, a beneficio di un territorio che riscopre il valore dell'arte e della cultura in generale. E da Biella è tutto, grazie dell'attenzione, arrivederci.